benvenuti a questo nuovo video siamo nella seconda parte cioè l'ultavo episodio del video insieme a Dekka quindi ti conviene venire subito perché dobbiamo fare la corsa a loro che ora spiegherai cos'è che ora spiegherò molto accuratamente allora innanzitutto io sono quello sopra lui è quello sotto io mi chiamo Mattia ma perchè non c'ho un amico allora consiste a livello 12 dove si trovano appunto i diamanti e fare due gallerie paralele per chi trova più diamanti se hai preso tutto seguimi intanto tu chi ne trova di più vince ehm niente io mi sono già preparato nella scorsa episodio con Andre abbiamo fatto tutto un piccolo youtuber abbiamo fatto trovo qua c'è lo zumbi di me oh quanta vita oh oh ssssssssssssssssssssssssssssss dai a sto genitore ok ragazzi ci vedi ragazzi io direi che ci vediamo no 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 anzi io scendo tu fai la scala fai quello che vuoi no così almeno ci puoi venire la prossima volta vabbè allora io provo a andare a cercare un'altra miniera tetto da inizi a scendere fa fare lavori pesanti a me questo qua certo se la mia serie fai quello che ti dico io sono come Adolfo su storiero ecco Adolfo il video e loro lo sanno perchè ce l'hanno fatto male qua oh potreste aiutare a scavare ma no non è che mi sono questo no ancora non ok un po' carico ti giuro sei di tappato scusi ok dai 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 livello 6 ehm c'è la mappola livello non è vero si guarda c'è scritto sulla linea ma quello di livello di profondità ah ah eh che ho alto sono a livello 40 se tu mi dissi una mano il lavoro sarebbe molto ma come faccio a scavare contemporaneamente no mi metti le torci così io vado avanti a scavare e basta ottimizziamo è vero arrivo allora arrivo arrivo ragazzi like se ho ragione io eh sì tutti dislike vabbè ragazzi se mai ne ne facciamo un altro ti ho chiuso da cosa che ce ne farei ma sì cioè cioè facciamo questo qua in cui non facciamo niente in cui non facciamo niente è bella la corsi diamanti anche perchè tu ci guadagni i diamanti e non ci guadagno niente non è la mia serie di Minecraft è certo potrei rubarli spudoratamente si ma dove te li porti dove te li porti mi nascondo una cesta mi nascondo una cesta mi nascondo una cesta oh aspetta che non ti trovo credito dove sei andato qui c'è una bella non ne so sto scherzando c'è la pietra ma non c'è una caverna ma bene la caverna madonna ah la c'è il villaggio che ho sperato l'ultima volta però piccolo problema tecnico ragazzi ok dai adesso andiamo andiamo ora sono qua in fondo ti ho già ritrovato eh un ferro vabbè vabbè te intanto hai sprecato il piccone per me grazie eh ma meno male che mi hai fatto la punta eh beh alla fine hai servito oh 13 fermo 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 eh ma sto prendendo i minerali si ma adesso eh grazie ah prego vabbè dai prendo una piccola roba e poi t'ho fatto anche la base cioè ti rendi conto ti rendi conto ok ah ma perché oh sei tu eh eh io stavo scavando allora tu da che parte vai allora aspetta tu da che parte vai il mio tunnel sarà aspetta no dobbiamo farlo cos'è aspetta mia allora ok no fa fallo di due fermo allora uno va di qua e l'altro deve andare e mette se io scavo tu mi fai davanti va di qua andiamo a vedere chi trova più di amante aspetta vince ok io so che ci sono già finito la parola aspetta vai 3 2 1 via eh si ha lotto peccato e chi ne trova di più vince non chi ne trova per primo anche se ne trova per primo un vantaggio rispetto all'altro no no io ce la gravel eh anche io quando ero non è vero io ho già sperato la gravel tu non ce la vero tu non ce la gravel eh eh dipende anche a culo ma è fortuna uh vabbè poi prenderemo anche tutti i materiali alla fine nel delle presi diamanti carbone quanto vale zero punti no solo diamanti no vabbè è buono vabbè vabbè lo prenderà in futuro il carbone adesso vabbè ma così cioè se scagliamo paralleli cioè almeno siamo vicini vabbè ma se troviamo i diamanti che sono in comune eh ci ritrovo per primo vabbè ma tu sei diamanti caso vuol dire eh se adesso tocca a me la terra la gravel la sabbia tutte insieme eh sì 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 ma siamo a livello 12 sì 11 sì dai diamantucci uscite vabbè dai questo qua è la seconda parte ferro quanto vale niente eh quello lo prendiamo eh è il tuo tunnel ciao Diego è per quello così siamo vicini sono trovi diamanti vabbè 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 vai più piano dai vabbè sto scavando ma comunque la gara eh like se vince andrea like se vinco io no anzi due like se vinco io no vabbè perché sono sfigatissimo tipo gioco gioco alla play con mio fratello io trovo i lapislazuli e lui il diamante ma tipo tantissimi poi io c'ho piccole con fortuna piccole con fortuna fatta perché è utile eh non trovarlo allora allora ma questo se ferro però anche te ti ferro eh scusa non posso vabbè ma non posso lasciarli là scusa mi hai lasciato qualcosa indietro ciao eh vabbè la challenge finisce quando finiva il piccone ma no l'ho già finito oro ecco vedete c'è cos'è che stai facendo tiè stai tornando indietro magari ne vuoi super 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 diamanti davanti a se è uscito adesso per me è perfetto ma dai non c'è niente le caverne più sfigate le piccole è tua Andrea grazie il descuidor tutto di cosa serve a niente beccù dopo avere data rispectus rispetto lo sento di chi mi dice Diego se li sentiamo, sono vicinissimi poi tipo siamo in una galera con attorno tutti i diamanti sono qua, sono qua sono qua no la grave